Siete curiosi di vedere quali titoli andrò a mettere nella top 10 manga Seinen? Allora scopriamolo assieme Mio padre Ciao ragazzi io sono Stefano Lagi 87 Oggi video della top 10 manga Seinen Prima di partire col video della top manga Seinen Devo precisarvi che nel video non metterò due o tre opere dello stesso autore o della stessa autrice E non metterò opere in corsi di pubblicazione Come ad esempio Berserk, Maedressab Darling, la divisa scolastica di Ekebi eccetera Sono d'accordo Inoltre se raggiungiamo i 1000 iscritti su Youtube Farò un video che ci devo ancora pensare di che video devo fare per i 1000 iscritti Ma a parte quello vi ricordo sempre di cliccare un bel pollicione su dei like E mi raccomando anche di cliccare su iscriviti e di cliccare anche sul campanello delle notifiche Per non perdere ogni mio video che faccio su Youtube Ma a parte queste chiacchiere durate tipo 10 minuti circa Partiamo subito col video della top 10 manga Seinen Ma prima Sigla Fra Oh Io padre In decima posizione abbiamo Gunslinger Girl L'opera è senza dubbi un ottimo Seinen Ne abbiamo sempre parlato benissimo qua Ne abbiamo sempre parlato bene Prima che pubblicasse la planet manga era persino interrotta da ben due edizioni Prima dalla Shinvision e poi dalla D-Visual Ma a parte quello la trama dell'opera è ambientata in un futuro dove l'Italia E' preda dagli attacchi del Movimento delle Cinque Repubbliche Che per fronteggiare lo Stato ingaggia l'ente pubblico Una società di intelligence e antiterrorismo Dove le impiegano le bambine cyborg a sua volta accompagnate da un adulto A combattere contro non solo contro il Movimento ma anche contro la mafia Cazzo di Buddha let's go Fuck mafia In una posizione c'è la mia opera preferita di Nio Asano Ovvero Solanin L'opera Science of Life più famosa di Asano Racconta le vicende di Meiko e Taneda Due protagonisti dell'opera che Insoddisfatti del loro lavoro post laurea Decidono di lasciare il loro posto di lavoro E di dedicare alle loro vere passioni Prima fra tutti Taneda Che il suo sogno è quello di scrivere una propria canzone E di fare successo Let's go Bel fumetto comunque Però un studente mio di Asano secondo me Anzi Quello che secondo me È l'opera più riuscita di Tsutomu Takashi Tetsu Andor Il miglior segno di genere Spokon È ambientato nel Giappone Subito dopo la seconda guerra mondiale Dove si racconta di Tomekano Una ragazza che inizialmente Scagionato Che punta a essere una delle migliori giocatrici Del baseball femminile Il mio Asano è stato scarcerato A quanto pare ed è per forza il mio padre Non sono più In settima posizione Abbiamo un'ottima opera che ha unito Commedia Sentimentale E anche erotico Ovvero Sto parlando di Golden Boy Molti con questo titolo Ricordano specialmente per il famoso anime O.A.V. Il fumetto è una bomba E' molto più valido Anche perché E' molto più completo rispetto alla controparte anime Che si fermava ad un certo punto della storia Ma a parte quello Nell'opera seguiamo le vicende di Kintaro Che in ogni storia Si imbatte in dei lavori diversi In cui si relaziona con diverse ragazze Che incontra in diverse occasioni Anche nei momenti imbarazzanti Sono tutte delle vacche Questo ha dimenticato di dirlo Abbiamo un ottimo Seinel Che ha come tema Bellissimo La musica Ovvero Blue Giant Quest'ottima opera Che ha anche dei temi drammatici Sta uscendo molto all'altro Molto bellino Carino Molta calma Consiglierei di praticarla Abbiamo quella che Secondo me Buona Chobitz È la migliore opera Che hanno fatto Le Clampe Ovvero Chobitz Uno dei migliori Seinel Che ha unito La commedia romantica Con la fantascienza Si parla del rapporto Si parla del rapporto Si parla del rapporto uomo-macchina Dove il nostro Hideki Dovrà prendersi cura di una Persocom Che poi Gli dà il nome di Ciper Si Bisognerebbe spiegare cos'è E in più Non solo Gli farà E le Clampe Ma scoprirà anche Il segreto Sulle Persocom Che Non dirò cosa succede Perché altrimenti Ex Grazie Grazie Chobitz È un ottimo Seinel Che ha unito La commedia romantica Con la fantascienza Grandissimo fumetto Molto carino Non l'avevi messo in top 10 Ma bellissimo Abbiamo un'ottima opera D'azione Celsing L'opera di Rano Che ha come tema L'Occulto Parla del nostro Alucard Un vampiro Che è al servizio Della famiglia Comandato da Integra Che dovrà combattere Contro vampiri Mostri e ghoul Che invadono Londra e dintordi L'opera Con toni cupi E crudi È di sicuro Un'ottimo opera Seinan Che ha unito Molti generi Tipo azione Horror Steampunk Fantascienza Che un manga Di quel tipo È molto difficile Da beccarli Si Senza dubbio In terza posizione Vediamo la migliore opera Che ha fatto la principessa Di manga Rumiko Takahashi Sto parlando Della bellissima opera Chiamata Nese Nikoku Su quest'opera Magari inizialmente Può sembrare Un classico Triangolo amoroso Può sembrare Che non è un Seinen Ora Innanzitutto L'opera È davvero Un Seinen E lo dimostra La prova Che è stato pubblicato Su una rivista Seinen Chiamato Big Comic Spirit Che è la stessa rivista Di Poon Poon I Am Iro 20th Century E Omunculus A posto Ma poi Questo triangolo Che ha Mezoni Koku È una Dei migliori Più realizzate Soprattutto Va ad aggiungere Personaggi secondari E anche Un po' Rivali amorosi Che danno Un po' Fastidio Ai due Pretendenti Di Kyo Kotonashi Da un lato Kozue E Yagami Su Godai Protagonista Della serie Vabbè Lui è malato Di Takashi Ci sta Anche io Abbastanza Però insomma Per quanto Iami Mi ha messo Nikoku E mi abbia fatto Sempre emozionare Tanto Mi mi garbi ancora Tutora Insomma Donna Mi fa Siamo tipo Al terzo posto Della top ten Manga Seine In generale Insomma Sarei stato Un pochino più Ecco Un po' Più cattivo Con certe opere Avrei Privilegiato Altre Che invece Magari Secondo me Avevano un pochino Di più Da dire Cioè Se mi fai A parte che io So contro Le classifiche In generale Però se me la devi Fare sui Seine Insomma Magari Cercherei qualcosa Di più rappresentativo Possibile Di quel target Di quello Insomma Più rappresentativo Di quel tipo Di target E da un lato Asuna Sumitaka Ma a parte Quello Misoni Koku E senza dubbio Uno dei migliori Seine del genere Commedia romantica Che abbia mai letto Secondo posto In seconda posizione Abbiamo quello Che secondo me È un ottimo Seine D'azione Thriller Parlo di Sankory La miglior opera Che ha disegnato Ikegami E la miglior storia Che ha fatto Fujimura Che è anche Quello che si fa Chiamare Buronson Racconta di due Ragazzi Asami e Ojo Che prendono Due strade diverse Ma che hanno Lo stesso obiettivo Quello di rinnovare Il Giappone Non solo Sankory Non sempre Delle migliori opere D'azione Ma è anche Una delle migliori opere Che ha come tema La politica E gli Yakuza Molto sintetico Ma sono D'accordo In prima posizione Abbiamo Oltre alla mia opera Preferita Di Naoki Urasawa E vabbè Toccava 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 anche uno dei migliori non solo manga seinen ma anche manga in generale in assoluto. E questo è il video della top 10 manga seinen, fatemi sapere se vi è piaciuto, inoltre vi ricordo sempre di cliccare su bel pollicione e su dei like e mi raccomando anche di cliccare su iscriviti e di cliccare anche sul campanello di notifiche per non perdere ogni mio video che faccio su youtube, inoltre in descrizione troverete i link nel mio canale di instagram, i link per i tagli del mio fantastico gruppo telegram, i link del mio canale di twitch e mio fottuto padre, però c'è un problema bimbi, boh monster fa calla merda, cioè perché non si riesce a rendersi conto di questo affare, di questo dettaglio della nostra vita che stiamo tutti vivendo in una bugia, nella quale monster fa calla merda di, perché nessuno si rende conto di questo, non riesco veramente a capire, c'è monster, c'è attacco dei giganti, c'è tutta sta roba che fa calla merda, tutti pazzi, tutti pazzi. Il trend è incredibile, non capirò mai questo trend, molto strano, molto strano, però va bene, comunque, prezzo. E' sempre bello parlare di fumetti, a prescindere anche se poi si parla di quelli che non mi galbano. Il termine ha detto che è bellissimo, sei uno sfogliatore. Sì, sì, lo so, lo so. Ma io sono sfogliatore. Critica sociale, sì, 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 enorme. No, vabbè, comunque è bellissimo, se dai scherzo. Però ha anche dei difetti non per nulla, cioè veramente non indifferenti, anzi, cioè di quelli che inizio a dire, dai, ora un pochino è troppo. Eh, forse, stiamo iniziando a rompere un po' i cu... Grazie. Grazie.